siamo veramente alla fine della corsa cioè i funghi sono finiti quando si arriva arrivano questi funghi qua questo è il crito cibile muralis è un cimballo anche un nebbione vuol dire che siamo alla frutta come dire io non consumo questi funghi come ho già detto il precedente video però nel livornese dove c'è la macchia dove io abito è molto ricercato e molto richiesto addirittura corre una barzelletta a questo proposito due amici si incontrano e uno che sa la morte del del genitore dice cosa ti ha lasciato tuo padre in eredità ma ha lasciato una cimballaia come dire il segreto di dove nascono questi funghi vabbè arrivederci